Ciao a tutti ragazzi, io sono Giacquan e questa sera giochiamo a Last Chance Supermarket che praticamente non è altro che un giochetto che riguarda far la spesa perché siamo i soliti ritardatari per Natale, non abbiamo preso un cazzo e quindi dobbiamo per forza svegliarci fuori le ultime ore prima di Natale per cui signori miei, questo gioco è prendere tutto quello che ci trovi ci avremmo studi sulle bancarelle che in realtà è scritto sulla lista che purtroppo non so perché non riesco a vedere è fatto con lo Unity signori, ma non c'è tempo di star qua a spiegarvi niente dobbiamo continuamente, dobbiamo comprare signori perché qua l'altra parte è Natale alle porte e non posso assolutamente aiuto, no! allora qua che sta un incidente bruttissimo, nel senso che non posso lasciarmi scappare le cose dagli altri e ovviamente dobbiamo stare attenti che la gente ci viene addosso e si muore soprattutto per incidenti fatti nei carrelli tranquilli allora, non vedo cosa devo prendere però signori a sto punto io prendo tutto a prescindere aiuto allora, con calma camioncini non servono, i bambini niente, niente i bambini, noi vol, i giocattolini tranquilli guarda, non mi servono, non servono un cazzo sti qua orcocan orcocan dai, dai, dai non mi serve un computer tipo, come ne so, un micro-on dai, che cazzo, guarda quanta roba ci vuoi vecchio, ho troppe cose ho troppe robe, signori ho troppe cose, aiuto ho troppe cose, giro intorno giro intorno, ok allora, ho il carrello un po' pieno nonostante questo, vado veloce no! mamma mia, che buco del culo, butei allora vabbè, ho ben capito che i giocattoli non servono un cazzo sto rischiando sto rischiando, dicevo, di fare 12.000 incidenti vabbè, d'altra parte quel carrello è talmente pieno allora dai, 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 dai che robuttuto, dai, che robuttuto, dai, che robuttuto allora qua, a parte che stiamo comprando quello che non ci serve e, vabbè vecchio, se ti giri di colpo ti ammazzo ok ok, allora, andiamo avanti dai, milk milk, milk milk, l'ho preso preso il latte ho fatto un po' di porca puttana allora niente da fare, signore toy, toy, pot, candle e banane arance e minestrone ostiga 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 qua, signori siamo dei provetti schivatori di carrello aiuto cazzo allora, non ce la faccio, signori è ufficiale ve lo dico non ce la faccio non ci riesco non so perché non cioè bambini non vogliono i giocattoli a Natale io questa cosa mi sta veramente facendo ok ok ok, cosa cazzo mi manca adesso ok, Christmas cosa Christmas cosa devo tornare indietro? ok, torno indietro forse Christmas cosa vuol dire queste no non mi venire addosso adesso adesso no, non vuol dire cosa cazzo devo prendere Christmas L L che? L cioè non ho capito cosa devo prendere signori Christmas L qualcuno mi dà una mano? qua non cazzo è Christmas L giusto ti va dritto se no te copo porca puttana brutto finotto cioè tutti morti e intanto quella è il gas walk in su con le frutta nelle cose vabbè allora non riesco a prendere non so cosa cazzo dovevo prendere prima vabbè qua intanto ruben si è dagala non rubiamo prendiamo su allora niente i robottini qua non li volevo nessuni tranquillo allora muffin latte uova farina grano duro grano molo dai orange alarm no l'alarm non è qua praticamente ok 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 guarda qua guarda la tecnologia perfetto signori siamo siamo carichi di cose ve lo dico un po' troppo forse non vedo un cazzo signori ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta via 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 signori ce l'ho fatta ce l'ho fatta signori andiamo a pagare ho paura del conto perché sinceramente di tutto quello che mi serviva ho preso troppa cosa allora ce l'abbiamo fatta e il problema è che ho speso 11.000 dollari in cose che non mi servivano per cui per cui non niente per cui pago sto zitto e mi godo tutti i regali in più che non so dove mettere comunque sia signori questo era Last Chance Supermarket vi lascio in descrizione il link del gioco così lo provate anche voi mi fate sapere cosa cosa ne pensate e io direi che sono a posto così per cui se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su condividetelo iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti